di margherite ursenar memorie di adriano voce di lorenzo pieri la notizia delle incursioni sarmate giunse a roma durante la celebrazione del trionfo di traiano sui daci questa festa differita per tanto tempo durava da otto giorni c'era voluto quasi un anno per far venire dall'africa e dall'asia gli animali selvatici che si volevano uccidere in massa nell'arena la strage di 12.000 belve lo sgozzamento metodico di 10.000 gladiatori rendevano roma un tetro luogo di morte quella sera mi trovavo sulla terrazza in casa di attiano in compagnia di marcio turbo e del nostro ospite la città illuminata era orrenda nel suo giubilo fragoroso quella dura guerra alla quale marcio e io avevamo consacrato quattro anni della nostra giovinezza diventava per la plebaglia un pretesto di bagordi avvinazzati un brutale trionfo di seconda mano non era opportuno far sapere al popolo che quelle vittorie tanto vantate non erano definitive e che un nuovo nemico calava sui nostri confini l'imperatore già tutto rivolto ai suoi progetti d'asia si disinteressava quasi del tutto della situazione a nord est e preferiva considerarla appianata una volta per sempre quella prima guerra sarmata fu presentata come una semplice spedizione punitiva io vi fui inviato con la carica di governatore della pannonia e i poteri di generale in capo la guerra durò undici mesi e fu atroce ritengo tuttora che l'annientamento dei daci sia stato quasi giustificato non vè capo di stato che tolleri di buon grado l'esistenza di un nemico organizzato alle porte ma il crollo del regno di decebalo aveva creato in quelle regioni un vuoto nel quale si precipitarono i sarmati bande scaturite da chissà dove infestarono un paese devastato da anni di guerra arso e ri arso dalle nostre truppe nel quale i nostri effettivi insufficienti mancavano di punti d'appoggio pullularono come vermi sul cadavere delle nostre vittorie sui daci i successi recenti avevano minato la nostra disciplina agli avamposti ritrovavo un po la non curanza triviale delle feste romane alcuni tribuni mostravano una sicumera idiota di fronte al pericolo rischiosamente isolati in una regione di cui la sola parte di cui fossimo esperti era il nostro antico confine per seguitare a vincere facevano affidamento sul nostro armamento che vedevo scemare di giorno in giorno per effetto delle perdite e dell'usura e su rinforzi che non mi aspettavo di vedere arrivare ben sapendo ormai che tutte le nostre risorse sarebbero state concentrate contro l'asia un altro pericolo cominciava a profilarsi quattro anni di requisizioni ufficiali avevano rovinato i villaggi dietro le linee sin dalle prime campagne daciche per ogni mandria di montoni o di buoi solennemente sottratti al nemico avevo visto sfilate innumerevoli di bestiame strappato ai civili se quello stato di cose perdurava si avvicinava il momento in cui le popolazioni contadine stanche di sopportare la nostra gravosa macchina militare avrebbero finito per preferire i barbari a noi le rapine della soldatesca ponevano un problema forse meno essenziale ma più vistoso ero però abbastanza popolare per imporre senza timori le più rigide restrizioni alle truppe lanciai la moda di un'austerità che praticai per primo inventai il culto della disciplina augusta che più tardi mi riuscì di estendere a tutto l'esercito rimandai a roma gli imprudenti e gli ambiziosi che mi intralciavano il lavoro e in cambio feci venire qualche esperto di cui difettavamo fu necessario restaurare le opere difensive che l'orgoglio delle recenti vittorie ci aveva fatto stranamente trascurare abbandonai una volta per tutte quelle che sarebbe stato troppo costoso mantenere gli amministratori civili insediati solidamente nel disordine che segue ogni guerra passavano gradualmente al rango di capi semi indipendenti capaci di qualsiasi esazione nei confronti dei nostri sudditi e di qualunque tradimento nei confronti nostri anche qui vedevo prepararsi in un avvenire più o meno prossimo le rivolte lo spezzettamento futuro non credo che eviteremo questi disastri così come non eviteremo la morte ma dipende da noi ritardarli di qualche secolo cacciai i funzionari incapaci feci giustiziare i peggiori scoprì d'essere spietato a un'estate umida successe un autunno nebbioso poi un inverno rigido mi servirono molto le antiche nozioni di medicina prima di ogni altra cosa per curare me stesso quella vita di frontiera a poco a poco mi riduceva a livello dei sarmati la corta barba del filosofo greco diventava quella del capo tribù barbaro ribidi sino alla nausea quello che si era già visto durante le campagne d'aciche i nostri nemici bruciavano vivi i prigionieri e noi cominciamo a sgozzare i nostri in mancanza di mezzi di trasporto per avviarli ai mercati di schiavi di roma o dell'asia i palli delle nostre staccionate furono irti di teste mozze il nemico torturava gli ostaggi così morirono molti dei miei amici uno di essi si trascinò sino al campo sulle gambe insanguinate sfigurato al punto che in seguito non mi riuscì mai più di ricordarne il viso intatto l'inverno prelevò le sue vittime gruppi di cavalleria restarono presi nel ghiaccio o trascinati dalle piene del fiume malati dilaniati dalla tosse rantolavano sotto le tende si congelavano i moncherini dei feriti un gruppo animato da una buona volontà ammirevole mi si strinse intorno la schiera esigua ma rigorosamente scelta ai miei ordini era dotata della forma più alta di virtù l'unica che io sopporti ancora la ferma determinazione di essere utile un disertore sarmata che avevo fatto mio interprete rischiò la vita per tornare a fomentare rivolte o tradimenti nella sua tribù mi riuscì di venire a patti con quell'orda e da quel giorno i suoi uomini combatterono ai nostri avamposti proteggendo i nostri soldati qualche colpo di audacia imprudente di per sé ma abilmente sfruttato provò al nemico l'assurdità di attaccare roma uno dei capi sarmati seguì l'esempio di decebalo lo trovarono morto nella sua tenda di feltro accanto alle sue mogli strangolate e a un fagotto orrendo che conteneva i loro bambini quel giorno il mio naturale disgusto per lo sperpero inutile si estese anche alle perdite dei barbari rimpiansi di quei morti che roma avrebbe potuto assimilare prevalersene un giorno come alleati contro orde ancor più selvagge i nostri assalitori sbandati si dileguarono come erano venuti in quella regione oscura dalla quale si leveranno senza dubbio ben altre procelle la guerra non era finita dovetti riprenderla e condurla a termine qualche mese dopo essere salito al trono l'ordine per il momento almeno regnava su quei confini tornai a casa coperto d'onori ma ero invecchiato